buonasera buonasera a tutti spero alcuni ascolto di avere una conferma di essere in diretta con voi lo saprò solo quando cominceranno a comparire dei messaggi dei segnali di presenza vediamo un se il volume mi sembra abbastanza alto vediamo un po cosa vuol dire questo elisabetta mignacca sta guardando ciao elisabetta aspettiamo solo qualche minuto via via che si collegano le persone vedo che c'è cecilia poi adriano elisabetta maria angela a maria angela quanto tempo poi aspettiamo per qualche istante angela sarà nicola c'è anche il nostro amico di milano nicola lina viviana c'è un gruppo metafonico alfa daniela c'è un gruppo metafonico alfa e mariella zara lina ok abrizio luciano insomma si stanno sono gli amici qui del di focus che salutano grazie 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 dei saluti grazie degli degli auguri grazie di tutto buon pomeriggio bene allora diciamo poi adesso ci dedichiamo a all'estate ai mondi invisibili il primo volume del cerchio firenze 77 proseguiamo con la nostra lettura sono le letture iniziali prima di entrare proprio dentro l'insegnamento del cerchio firenze 77 ciao nicola se qualcuno vede sfocato ma non dipende da me e quello che leggeremo stasera abbiamo iniziato a presentare alcune delle guide del cerchio firenze 77 purtroppo non sono riuscito ad organizzare un ascolto ma è una cosa che è una promessa non per la prossima volta ma generica generale poi riuscirò a farvi sentire direttamente le voci maestri almeno almeno un'idea di quello che può essere però voglio dire a tutti che se voi andate sul sito che si chiama cerchio firenze 77 punto org se voi andate là sopra ci sono un'enorme quantità dei brani che si possono ascoltare e anche scaricare gratuitamente tutto gratuito naturalmente potete ascoltarli e sono delle voci meravigliose sono degli insegnamenti per cui chi ha il desiderio di ascoltare le voci e non può aspettare che io in qualche modo mi organizzi che non è una cosa così semplice allora può andare a sentirle lì cerchio firenze 77 punto org o rg org abbiamo letto le parole di dali la prima la prima lezione che abbiamo fatto abbiamo la seconda letto le parole di claudio io so che per alcune sono state un po impegnative perché ci mettono a confronto con alcuni aspetti di noi che non sono così semplici stasera leggeremo molto brevemente perché sono solo due tre paginette quelle che riguardano teresa un'altra delle voci che interveniva cerchio firenze 77 dovete pensare che quando interveniva teresa la stanza dove avveniva la riunione la seduta si riempiva di un profumo intensissimo di rose fragranti proprio un profumo di rose e più volte quando c'è stata presente teresa alcune o petali di rose o proprio rose intere sono cadute dall'alto sopra le persone che erano riunite intorno a roberto setti in quella occasione e regolarmente tutte le volte che veniva a teresa avveniva una cosa meravigliosa cioè che il corpo di roberto setti sfidava la legge di gravità veniva abitato da teresa e portato verso l'alto e sfiorando il soffitto parlava dall'alto girando alla testa delle persone le volte sfiorava le loro teste con questa voce molto bella piena d'amore è tipicamente la guida mistica della cerchio di teresa che poi abbiamo scoperto essere non essere altri che teresa di lisie la piccola teresina di lisie la quale era un'anima mistica per eccellenza e il suo modo di parlare al cerchio Firenze 7 era impregnato di amore e di misticismo in un modo che non è descrivibile parole non si riesce non si può neanche riuscire a immaginarlo era la c'era proprio la sensazione di essere in presenza di una qualità di amore che non è sperimentabile non lo si sperimenta nella nostra vita quotidiana ha poco a che fare con l'innamoramento che proviamo verso qualcuno è proprio come la sensazione di essere immersi in un amore assolutamente incondizionato e completamente coinvolgente un amore che penetra dentro ogni fibra del corpo e quasi toglie il respiro sembra una cosa del tutto sconosciuta come esperienza rispetto a quello che facciamo normalmente nella nostra vita ecco adesso adesso iniziamo la lettura di queste due pagine e poi proseguiremo con un'altra voce una voce importantissima nel cerchio Firenze 77 che è la voce di che è quella tra le guide della cerchia che più si è dedicata all'insegnamento filosofico etico proprio un oratore meraviglioso e poi ne avrete un cenno nelle cose che leggeremo più avanti non credo che riusciremo a leggere completamente tutta la sezione che riguarda campis anche perché quando parla campis è necessario un po soffermarsi su quello che dice perciò insomma forse ci prenderà un po più di tempo di un'unica lettura mentre invece adesso cominciamo con la lettura di presa presa parla iniziando da pagina 89 del libro dai mondi invisibili ora io ve lo mostro così ma so che quando lo mostro così non so come viene letto si viene letto all'incontrario comunque il libro è il cerchio Firenze 77 dai mondi invisibili edizioni mediterranea e lo trovate dovunque perché questi libri incredibilmente da oltre 40 anni sono sempre nelle librerie e c'è una grandissima richiesta teresa ci parla della semplicità pensate che questo è un testo del 1975 creature che siete in attesa della nostra presenza noi rispondiamo al vostro appello al vostro richiamo e io sono fra voi per darvi speranza per dirvi voi che riuscite a seguire con la mente gli alti insegnamenti dei maestri siate sereni e fiduciosi la verità che è in ognuno in ogni essere è suscitata non solo dalla mente ma anche dall'amore di dio la povera e misera teresa con lo sconfinato amore per il creatore del tutto l'ha trovata in sé in forza del suo amore e con quelli che non sanno seguire difficili ragionamenti la verità anche con l'amore per il nostro creatore sperate l'intuizione soccorre umile povero di spirito egli fa conoscere la verità che nasconde ai saggi fratelli non perdete mai il senso mistico della vita pensate a noi come a creature simili a voi che sono protese per cercare di aiutarvi di farvi prendere chiaramente il senso di ciò che vi attende qui in questo primo brano che violetto di presa è presente proprio lo spirito di teresa che era un innamorata innamorata del cristo innamorata di dio del creatore nella sua cultura la cultura cattolica voi sapete che lei è stata chiusa in convento in clausura da fin da giovanissima avuto una speciale uno speciale permesso dal papa di entrare in clausura molto piccola una bambina ha vissuto con un intensità enorme pochissimi anni di vita è morta ventenne poco più che ventenne e cominciati subito una serie di miracoli con lei poi continua parlando della pace teresa aveva un po questa modalità faceva arrivava si inebriava la stanza si riempiva di profumo di rose cominciava la levitazione di roberto setti poi girando in alto alle volte sfiorava il lampadario in questo soffitto altissimo che tintinnava un vecchio lampadario di quelli di tintinnavano i cristalli e lei parlava da lassù e da lassù scendeva come una pioggerellina d'amore questa queste parole mistiche ed erano sempre incontri molto brevi molto intensi a proposito della pace dice a pagina 90 la pace sia con voi questa bellissima la pace sia con voi con loro che vi amano con loro che vi odiano la pace sia con gli oppressi con gli oppressori con chi fa il bene con chi ha ricevuto il bene sia con chi soffre con chi combatte con chi uccide con chi è la pace discenda sugli accecati dalle passioni su chi giudica su chi non crede sull'egoista la pace sia con tutti a ciò che chi ama ami con amore puro chi odia plachi l'odio chi è oppresso sia sollevato chi fa il bene nella pace sia ricompensato chi ha ricevuto il bene sia in grado di rendere il bene chi soffre abbia dolce la sofferenza chi combatte si di combattere chi uccide pianga l'atto commesso chi è ucciso non abbia moto di ribellione contro l'uccisore la pace discenda su tutti a ciò che l'accecato dalle passioni plachi il tormento interiore il giudice giudichi discernimento chi non crede trovi dio chi ama se stesso abbia luce tutto ciò perché nella pace riceviamo gli influssi della scintilla divina nella pace ritroviamo noi stessi nella pace siamo più buoni sia dunque con tutti e prosegue con un brano dedicato all'amore il dio e quegli che resta nell'amore rimane in dio e dio in lui o fratelli amate voi il vero amante non chiede tutto se stesso senza curarsi se l'oggetto del suo amore l'apprezza o corrisponde possibile perché ha in sé la stessa natura divina e non teme gli ostacoli perché niente di lui è spiacevole o impossibile ma se voi dite mi sacrifico o vi scusate con l'impossibilità o temete o soffrite se non siete corrisposti nel vostro amore voi non amate voi siete schiavi delle circostanze schiavi di una passione da voi idealizzata il vero amore non conosce distinzioni di ceto o di sesso né di morale né soffre per la lontranza dell'oggetto suo è più forte di ogni cosa più della violenza più della coscienza perché è forza invincibile suprema ragione divino sentire felice è colui che ama niente desidera perché tutto possiede vive nel mondo ma non è di questo mondo i suoi affanni o le sue glorie non possono trattenerlo dall'intera unione col supremo amore ama la vita ma non teme di perderla ama le creature ma non teme di perderle per lui dio è amico fratello padre madre tutto non è un fanatico non è di tempio né di culto per rendere gloria al creatore per il vero amante il creato stesso solo l'unico egli ha rispetto per la concezione che ha il filosofo della divinità come per quella che ne ha il selvaggio come per la sua dinanzi alla quale egli tace perché il suo silenzio è più di ogni giaculatoria ma il vero amore fratelli non è nelle mie parole non può essere descritto deve essere provato solo se avete un temperamento o devoto vediamo se siamo fortunati però questo brano il credo dell'iniziato lo potete trovare anche sul sito cerchio firenze 77 punto org e lo potrete ascoltare direttamente dalla voce di campis fatelo perché è veramente bello allora riprendo da dove eravamo arrivati che è un frammento bello di questo brano credo nella legge di causa ed effetto per cui ognuno raccoglie i frutti che ha seminato l'uomo causa la sua infelicità rimanendo vittima di quello che egli stesso ha determinato pensate qui ci dovremmo soffermare credo nella giustizia divina e credo nella divina misericordia in quanto nessuno è mai eternamente condannato ma dalla giusta conseguenza delle proprie azioni ognuno impara e si santifica credo che il bene e il male siano relativi ad ogni individuo ma posso affermare che sia giusto e buono tutto quanto favorisce il progresso dell'individuo e sia ingiusto e cattivo tutto ciò che in questo senso danneggia i miei fratelli e me stesso credo che la coscienza esprima quanto di più elevato l'individuo possa concepire ma non necessariamente quanto di più elevato vi sia credo il miracolo della trasformazione morte tanto bello quanto quello della trasformazione vita e credo che l'uomo definisca bello o brutto attrattivo o repulsivo secondo l'impressione soggettiva credo in un'unica fonte del tutto l'uomo parte di essa come i raggi del sole sono parte del sole pur non essendo il sole credo che non vi sia vita che non sia il riflesso dell'unica vita così come ogni potere è riflesso dell'unico potere espressione dell'unica vita è supremo conforto per me essere certo credo che per le creature niente è male reale che niente muore perché nell'universo è vita e amore l'una esplicante l'esterna natura di dio l'altra l'interna credo nella trinità o triplice aspetto della manifestazione divina e cioè nell'unità spirito radice di ogni cosa quid al di sopra di ogni effetto perché è parte della causa nella dualità a casa orditura del cosmo nella trialità mente energia materia in tessitura del cosmo credo in maria chiesa occulta verità ultima madre dell'uomo dio la quale solo il santo può conoscere priva di veli credo solo credo nel solo dio eterno perfetto infinito indivisibile immutabile costante ogni scente ogni presente ogni possente che comprende in sé tutto quanto realmente è esiste è esistito esisterà perché assoluto affermo la mia fede in tutto questo così fu così è così sia così sarà questo è un brano non solo bellissimo ma è anche un brano che contiene i semi di tutto l'insegnamento che andremo a leggere e sono semi che danno dei frutti e dei fiori di cui se non siete un po dentro le cose del cerchio non potete cogliere adesso la grandezza l'importanza e quanto in la si spinge questo insegnamento rispetto a qualsiasi cosa abbiate potuto incontrare e potrete incontrare durante la vostra vita è una cosa straordinaria straordinaria ma veramente ci potremmo soffermare su ognuno di questi punti su ognuno mi cadono gli occhi su credo il miracolo della trasformazione morte la morte come una trasformazione credo questo miracolo della trasformazione morte tanto bello quanto quello della trasformazione vita due momenti di esistenza diversi e due momenti che passano attraverso una trasformazione concludo un ciclo di vita in una certa dimensione di esistenza torno a vivere in un certo modo in questa dimensione di esistenza quello che noi chiamiamo venire alla vita venire alla luce e morire entrare dentro questa trasparenza in cui quando lasciamo il corpo fisico tutto ciò che non appartiene al corpo fisico entra e continua a vivere ma insomma potremmo veramente approfondire tantissimo tutto quello che abbiamo letto qua quelle poche cose che vengono dette sull'assoluto proprio alla fine di questo brano sono eccezionali e hanno ognuno un significato la trinità come è spiegata qui da che come come è enunciata per titoli perché qualche cosa che veramente ci prenderà molto tempo in molti approfondimenti l'assoluto è un tema enorme gigantesco ma condotti per mano dall'insegnamento dei maestri riusciremo a farne una cosa comprensibile comprensibile per tutti noi insomma per quello che è possibile perciò adesso io vorrei tentare dato che vedo che per adesso ma ancora siete lì che riuscite a stare davanti a questa diretta e che per adesso la linea ancora non si interrompe vorrei provare a leggerli un altro bellissimo brano di campis se riusciamo a leggere questo abbiamo già fatto un pezzetto avanti e vorrei dire questo questo brano che si trova a pagina 97 del libro dai mondi invisibili del cerchio firenze 77 sempre ovviamente questo brano si intitola la magia una bellissima disquisizione che campis fa su questo argomento dice in sostanza fratelli voi sareste voi che partecipate intende a queste sedute a queste riunioni di quindi di spiritismo in qualche modo voi sareste i moderni cultori della negromanzia i moderni cultori della negromanzia comodamente seduti in attesa del brivido veramente i tempi sono cambiati ed anche questa vecchia decrepita direi pazzia dell'uomo ha mutato abito si è introdotta nei salotti collocata fra i passatempi dell'ultima generazione vecchio è il desiderio dell'uomo di mettersi in contatto con quel mondo invisibile che lo circonda la cui esistenza sfugge alla più recente scienza ed è ancora oggi materia di fede le evocazioni della storia non possono essere contate tante esse sono erano credute tanto da incutere paura prima ed essere condannate poi sappiamo noi quanto intorno alla magia è stato fatto anche di male successivamente quando l'uomo apre gli occhi quel tanto necessario per osservare i più elementari fenomeni che lo circondano e trascriverli trascriverli in leggi forte per la conquista e per la fatica ride dell'invisibile così come un ebete può ridere su un'opera d'arte che non capisce oggi invece l'uomo grazie alle tante gaffe commesse cerca di essere meno drastico e categorico studia il fenomeno con lo stesso successo che può avere chi ad esempio voglia tradurre un'opera scritta in francese convinto che lo sia in arabo povero dilettante che cosa ha cercato di raggiungere la prova scientifica della sopravvivenza dell'anima per moralizzare i popoli creare il nuovo motivo di inibizione fondato sulla scienza oggi che si sta sciogliendo quello fondato sull'ignoranza dominatore dei tempi passati oppure dimostrare che più nulla esiste oltre quello che vedete le vostre o le loro sono personali interpretazioni polemiche non positive indagini dei fatti non lasciamoci quindi trascinare dalla foga che l'amore alla scienza a volte può dare amore alla scienza ho detto chissà fratelli se tornata in voga la moda di bruciare i cultori delle scienze occulte ci sarebbero tanti come oggi che hanno amore a questa scienza sareste ugualmente numerosi a queste genere di riunioni oppure quanti prima di voi hanno sfidato il fuoco seguito le più impossibili pratiche pur di evocare l'anima di qualche trapassato allo scoccare della mezzanotte fra il primo e il secondo giorno di novembre vestiti di nero acceso un fuoco di legno di cipresso e di verbena bruciare della mirra e dello zolfo pronunciando il seguente scongiuro o potenti forze della tenebra e della morte io vi invoco ombra che nascondi morte che cancelli io evoco dall'oscuro regno l'anima di tizio caio e sempronio presa una tibia con la destra tenendo un teschio nella sinistra compiere di corsa tredici volte tredici passi ripetendo lo scongiuro e gettarsi in una fossa scavata in un cimitero per seppellire un morto coricarsi guardando il cielo ripetere lo scongiuro aggiungendo tizio caio o sempronio mostrate a me il risultato è certo lo credo o sarete voi che andrete a raggiungere l'anima evocata morendo dallo spavento oppure essendo tanto pazzi da seguire questa pratica niente di più facile che possiate vedere quello che desiderate se avete pratica di queste formule se per curiosità avete letto l'opera di un qualche ciarlatano e non potrebbe essere altrimenti sulla magia bianca e nera avrete certamente notato che ogni formula presenta delle difficoltà di esecuzione insormontabili molto probabilmente chi le ha inventate rendendole impossibili si cautelava contro ogni eventuale accusa di impostura in quanto nessuno vi sarebbe stato che l'avrebbe provate e trovate false con probabilità questo pensava l'autore mentre qualsiasi formula anche la più fantastica quando colpisca l'immaginazione e sia seguita scrupolosamente dalla volontà e convinzione di un pazzo diventa efficace le difficoltà rappresentate dai rituali magici non sono che la pietra di paragone per la volontà e la convinzione dell'operatore chi riesce a procurarsi da solo con i propri mezzi tutto quanto il rituale richiede ha tanta forza in sé da muovere le montagne gli altri si arrendono non è quindi la mano di un assassino giustiziato e sepolto da tre giorni che può farvi operare dei prodigi ma la volontà che avete dimostrato potendovi procurare un simile cimelio ma chi ha in sé questa forza questa volontà non ha bisogno né di bacchetta magica né di altri arnesi del genere per operare sull'invisibile i maestri ne sono sempre viventi e quando ne sono esempi viventi e quando un uomo comune un uomo comune chiede di operare un prodigio mostri la sua volontà procurandosi le più impossibili e stravaganti cose non è neppure vero quindi che la bacchetta magica del mago in mano all'apprendista compia gli stessi miracoli il potere sull'invisibile è una facoltà personale che non può essere tramandata non può essere realizzata a seguito di una comunicazione deve essere trovata e chi non la naturalmente per evoluzione deve dimostrare di avere tanta volontà da procurarsi le cose più impossibili non diciamo una cosa nuova affermando che l'uomo ha a propria disposizione dei poteri che neppure si sogna ma perché queste facoltà siano attive bisogna che l'individuo abbia un particolare stato interiore che è naturale nel guru nel santo nel mago artificioso nello stregone nell'ignorante è come la corda di uno strumento musicale che per produrre un suono o una nota desiderata deve essere tesa in modo giusto questa intima tensione è naturale virtù dell'individuo evoluto mentre nel non evoluto è un'autosuggestione che egli si procura seguendo queste formule magiche al maestro che desideri agire sul visibile o sull'invisibile non occorre alcuna formula perché in sé ha questa intima tensione non ha bisogno di ricorrere a qualcosa di molto simile ad uno stupefacente per averla ora questi poteri sull'invisibile sono propri dei maestri ma questo non significa che non possono essere adoperati a scopo egoistico ciascuno può usare come meglio crede dei propri poteri così come a proprio piacimento usa le mani una sublime legge di giustizia e di equilibrio tutto soppesa e valuta laddove questo equilibrio viene viene rotto nasce si crea una causa il cui effetto andrà a ricadere sugli autori di questa perturbazione per trasformarli per insegnare loro una verità sublime misericordia perfetta giustizia di dio ricordatelo voi che invocate la misericordia celeste per i casi vostri la giustizia divina quando non avete potuto vendicare un torto fattovi dio non punisce ma corregge chi ha perturbato l'equilibrio torniamo a noi fortunatamente questo gioco di forze non è mai oltromodo dannoso perché la ferma convinzione la ferrea volontà del maestro sono sempre dirette a scopi altruistici e quindi benefici quello delle quelle dello stregone dell'ignorante che abbiano superato le difficoltà con una formula magica costano a questo ignorante o a questo stegro stregone un tal dispendio di energie che dopo due o tre pratiche di questo genere costui finisce come ipotesi migliore pazzo completo non si avventuri quindi l'ignorante negli impervi sentieri delle scienze occulte per non essere divorato dalla sfinge volontà fede scienza ecco il trinomio su cui il mago fonda la propria azione volontà convinzione immaginazione danno allo stregone un'effimera potestà sulle cose e sulle creature tali sono gli elementi che contribuiscono al successo in una pratica magica ma vi sono altri fattori i quali pur non concorrendo direttamente non possono essere trascurati fattori o elementi che servono a dare all'operatore uno stato d'animo particolare corroborante in tutto lo svolgimento ad esempio un senso di timore che favorisce l'estrinsecazione della sensibilità oppure quel senso del segreto dell'occulto che fa sì che sia aumentata nell'individuo l'infatuazione vi sarà certamente capitato di dover attraversare un luogo solitario timorosi di quello che poteva accadervi ed allora ricorderete di aver visto e udito cose inesistenti eppure reali e sensibili ai vostri sensi allo stesso modo osservate con quale morbosa curiosità si ascoltano cose segrete con quanto piacere si fanno certi atti in luoghi proibiti si usa nella vostra società censurare tutto quanto è attinente al sesso credendo con ciò di fare opera di moralizzazione ma le immagini o quanto altro sfuggito alla censura che cadono sotto l'attenzione di un individuo acquistano un tal potere erotico da rendere tre volte sì inutile l'opera di moralizzazione così di fronte ad esempio ad una situazione piccante è di gran lunga meno meno porco il membro di una qualche associazione di nudisti che un funzionario della censura stessa tutto ciò avviene per l'ascendente che ha il segreto l'occulto per un individuo il compiere un'opera magica richiede un'attenzione una precisione non comuni il trascolare il particolare più insignificante può compromettere l'opera tutta generalmente si crede che chi ha potere sull'invisibile possa esprimere un desiderio e vederlo realizzato immediatamente tutto questo è un errore occorre la completa partecipazione dell'individuo di tutto l'individuo l'opera del cristo è un'opera magica potenza della parola una folla inferocita pronta a linciare una povera donna ed una frase detta nel modo più semplice e sereno d'incanto arresta ogni velleità nulla più della calma a nienta l'iroso fermenta un popolo si produce una condanna ma chi uccidete o potenti il falegname che parla per regalare sogni alla povera gente nulla più dell'ombra spaventa chi ha potere temporale il mago che agisce sulle moltitudini ha più conoscenza dell'uomo e del visibile che del divino e dell'invisibile quando qualcuno di voi sarà riunito in nome mio dice il cristo qui io sarò ben conoscendo l'importanza di queste parole quando alcune creature sono fermamente convinte del potere di un individuo conferiscono a lui tutto il potere creduto guardate sono poche pietre chiamate altare due luride mani che spezzano il pane un affetti da bocca che pronuncia incomprensibili parole eppure avete di fronte a voi il prodigio per eccellenza potenza dell'umana convinzione ecco quella creatura curva per l'artrite guardarvi con un'espressione bieca per la miopia cercare di sorridervi con i pochi denti superstiti di una piorrea alveolare e voi giurate di averla vista volare cavalcando la coda di satana potenza dell'umana immaginazione provate ad imporre a quello scalatore di raggiungere quella cima accessibile ai soli volatili come più volte ha fatto di sua iniziativa e lo vedrete cadere nell'ascesa non una ma dieci volte potenza dell'umana volontà è più ancora ecco l'acqua di una piscina su cui galleggiano pus croste bende infette guarire sanare ciò che non possono i più moderni mezzi potenza dell'umana fede e voi uomini ricercate l'energia della materia se dunque ciascuno di voi ha tanta forza in sé da far credere che possa sovvertire le leggi della natura quando più persone siano riunite in un'unica fede potete immaginare quale forza ne scaturisca i romani erano fermamente convinti dell'esistenza degli dei e con questa loro convinzione avevano creato delle forme pensiero così caratterizzate e dense da essere scambiate per entità reali all'occhio del veggente successivamente quando il cristianesimo prese vigore e il popolo non credeva più negli antichi dei a giuliano in una visione questi dei apparvero stanchi e terribilmente invecchiati quando delle creature si riuniscono fermamente convinte in qualcosa creano una catena magica che può avere degli effetti cinetici sulle cose e sulle creature dopo l'esperienza del mesmer sugli animali e sugli uomini si pensava che le cosiddette forze psichiche avessero ascendente solo sugli animali e sugli individui successivamente lo spiritismo dimostrò che il pensiero è un ente dinamico che può mettere in moto corpi inanimati da chi sappia con la volontà dirigerlo e produrre una serie di meravigliosi fenomeni gli spiriti riuscirono tanto bene in questo primo intento che alcuni studiosi ne esclusero addirittura l'intervento attribuendo i fenomeni alle forze del pensiero dei presenti in special modo del medium e si attribuivano a questi poveri medium tanta forza tante possibilità quante sono le malattie guarite dalla panacea universale sorsero così le correnti naturalistiche del tutto giustificate se si pensa che fino a pochi anni fa si discuteva su quanti angeli possono entrare sulla punta di un ago e si discuteva e si discute tutt'oggi si creano delle teorie per spiegare ciò che è semplice ciò che è già spiegato ma che non si vuole ammettere ed allora esprimiamo un ringraziamento particolare a nome dell'umanità ai vari inventori dei serbatoi cosmici della memoria ancestrale eccetera eccetera praticamente serviti e accontentati da quei ciarlatani sedicenti medium potenza dell'umana illusione così voi così voi così categorici nei vostri giudizi così precisi nelle vostre valutazioni così esatti nelle vostre osservazioni che sapete distinguere il bello dal brutto il gradevole dallo sgradevole il freddo dal caldo per dare un'assoluta importanza a tutto ciò non avete ancora compreso né l'uomo né la natura aprite gli occhi una buona volta girate l'intorno e guardate concedetevi che convincetevi che ogni cosa fa parte di un tutto di un meraviglioso tutto in cui uno solo è il principio e una sola alla fine non vi sono creature neglette ed altre privilegiate ma ogni creatura in relazione è ugualmente dotata cercate quindi di vedere questo di convincervi di ciò di sapervi collocare nel grande disegno universale e allora una grande pace un grande equilibrio una grande serenità saranno in voi e in questa pace in questo equilibrio in questa serenità si svilupperanno quei poteri occulti i cui effetti hanno creato la parola miracolo sono sembrati cioè tanto grandi in verità da doverli attribuire alla divinità e così è fratelli quella divinità che è in voi che è in me che è in tutto in nome dell'uomo che nei cicli generatori prende l'universo stesso come sua forma in nome della vita unica che respira in tutto l'universo che si limita e manifesta nelle forme in nome dell'irrefrenabile e incessante evolversi di ogni vita possiate riconoscere l'illusione delle forme possiate riconoscere la radice di ogni vita animatrice possiate riconoscere l'unità spirituale dell'universo a ciò che possiate essere consapevolmente uno col padre ame questo è queste sono quelle parti quelle lezioni di campis che nelle quali lui si in qualche modo questa questo maestro esaltava questa capacità di avvincere con il suo eloquio e ci ha parlato un po della magia degli effetti di questa ricerca che gli uomini fanno del magico di quanta paura e terrore ha generato il magico nel mondo la magia e poi dopo da un certo punto in poi quando è cominciato ad essere diffuso lo spiritismo la medianità tutto è un po cambiato ed è sempre diventato sempre più difficile per la scienza confrontarsi con tutte queste novità dovendo trovare una qualche spiegazione a eventi inspiegabili perché in effetti alcuni eventi che riguardano quello che è accaduto nel cerchio firenze 77 sono inspiegabili vi raccontavo prima di come levitava la sorella teresa e quindi le leggi le nostre leggi della scienza non hanno nessuna spiegazione cioè non è stata in alcun modo trovata una spiegazione che possa giustificare l'annullamento completo della legge di gravità per un corpo come quello di un essere umano e via e via e poi tutte le altre cose i veri e propri miracoli che accadevano al cerchio firenze 77 quello che vi posso dire io adesso invece di continuare con un altro perché poi mi rendo conto anche leggendo questi brani che sono tutti brani che fanno molto meditare ora qui non siamo entrati ancora nell'insegnamento quando ci entreremo allora sì che che avrò anche bisogno del conforto delle vostre domande a cui rispondere ma questi brani comunque hanno una loro densità ed è credo la cosa migliore di non eccedere in questa lettura e lasciarvi il tempo di meditarla di tornarci sopra rileggendola con attenzione in modo poi da trovare dentro di voi le risposte alle vostre domande oppure poterle presentare a me la volta successiva se qualcuno di voi in questo momento alcune domande a riguardo delle cose che già ci siamo detti nelle passate occasioni oppure a riguardo di quelle che vi ho appena letto oppure se avete ancora altre curiosità io cerco adesso vi do un pochino di spazio per leggere le vostre domande e anche per rispondervi c'è stata una persona che mi ha scritto facendomi una domanda enorme una domanda la quale non si può rispondere in una situazione di questo tipo una domanda la quale cioè il perché l'uomo è dovuto ha dovuto transitare attraverso questa esperienza perché si deve incarnare reincarnare che cosa significa tutto questo una risposta molto ma molto molto superficiale è semplicemente che attraverso successive esperienze di vita in varie vesti in varie epoche con vari ruoli l'uomo ha la possibilità di maturare di maturare di crescere e di maturare la sua coscienza e di passare da quella condizione di assoluto atteggiamento egoico rivolto solo verso se stesso completamente egocentrato di passare da questa condizione a includere invece nella sua vita quella attenzione quella cura per gli altri che oggi sembra un po andata perduta no tranne che adesso in occasioni come quelle che stiamo vivendo si risveglia qualche cosa nell'animo delle persone in situazioni di emergenza talvolta compaiono alcuni aspetti di noi che che sono mantenuti normalmente un po nascosti e invece invece è possibile che che ci siano delle qualità dei talenti che non esprimiamo completamente ma riusciamo ad avere talenti perché perché ci siamo più volte misurati con la vita e siamo cresciuti in questa esperienza adesso io vorrei che qualcuno di voi che è collegato scrivesse un rigo per dire tutto ok va tutto bene ti sento perché mi sembra che sia tutto un po fermo e quindi non so se siete in contatto con me oppure no